Peculato d'uso e questo è il reato ipotizzato nei confronti del sindaco di Imperia Claudio Scaiola nell'ambito di un'indagine avviata dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza Imperiese. L'inchiesta, come ha confermato il procuratore capo Alberto Lari, è partita da un esposto e riguarda l'utilizzo da parte del primo cittadino dell'auto blu del comune per scopi che non sarebbero strettamente legati alla sua attività amministrativa. Le fiamme già nei giorni scorsi hanno acquisito documentazione presso la segreteria del sindaco a Palazzo Civico e consegnato un avviso di garanzia a Scaiola e all'autista comunale. L'indagine è simile a quella che nel recente passato ha riguardato la dirigente scolastica dell'Ipsia Marconi d'Imperia che era stata addirittura arrestata dai carabinieri, un arresto peraltro poi non convalidato dal magistrato. Nel caso di Scaiola, però, a differenza di quello della dirigente scolastica, non c'è alcuna fragranza di reato ma episodi sui quali devono essere compiuti degli accertamenti e proprio per questo il procuratore Lari ha spiegato che è stata ritenuta doverosa la notifica degli avvisi di garanzia agli indagati.